Amici dell'Orizzonte degli Aventi, buonasera. Bentornati, bentornati a tutti i vecchi spettatori e un benvenuto anche a tutti i nuovi che ci seguono per la prima volta. Questa sera ho un ospite nuovo, graditissimo, che ho conosciuto di persona in giugno a un incontro dove si presentava l'ultimo libro di Domi Nutella, a cui partecipava anche Andrea Cionci, Piego Fusaro. L'ospite di questa sera, giornalista e scrittore ticinese Corrado Galimberti. Buonasera Corrado, ciao, benvenuto sull'Orizzonte degli Aventi, sono molto contenta e onorata di presentarti ai miei spettatori. Allora, Corrado Galimberti ha scritto un libro che presentiamo questa sera, L'Antipapa, il primo decennio di un apostata sul soglio di Pietro, edizioni Arca, il libro si trova sia in libreria e se non l'avessero ordinatelo, oppure si acquista online. Il libro ha anche una prefazione di Diego Fusaro, che salutiamo. Allora, Corrado, come sei arrivato a scrivere un libro su questo argomento spinoso, su questo argomento che sta però lentamente aprendosi una via nel mondo dell'informazione che tende a nasconderlo sempre di più, però con tanti autori ormai che si stanno occupando di questa questione riusciamo un po' a tagliare questi velami e riuscire a parlare di questa questione fondamentale e importantissima, non solo per i credenti ma per tutti, direi. che è una questione di interesse generale, mondiale. Allora, Corrado, come sei arrivato a scrivere, a interessarti innanzitutto a questo tema fino al punto di dedicargli un libro dopo gli altri quattro che hai già pubblicato? Ma diciamo che i motivi sono molteplici. Quello scatenante è relativo ai provvedimenti che sono entrati in vigore, paese più, paese meno, a causa della presunta pandemia. Mia mamma era molto malata e io ero veramente angosciato dall'ipotesi che potesse mancare in quel periodo perché non sarebbe stato possibile celebrare un funerale con tutti i crismi. Molti di noi hanno presente i quadri in cui San Carlo Borromeo è in mezzo agli appestati, San Francesco d'Assisi predica tra i lebrosi. Non dimentichiamoci poi le centinaia di missionari che nel corso dei secoli hanno perso la vita per andare a diffondere il Vangelo. Ora, a me è stato insegnato, adesso io non sono un teologo, però un po' di catechismo me lo ricordo, a me è stato insegnato che la Chiesa deve provvedere in primo luogo alla salvezza delle anime e in secondo tempo quella dei corci. Per cui diciamo che all'idea che mia mamma venisse a mancare e non potessi darle l'addio diciamo come si conviene e quindi poi un giorno quando sono entrato in Chiesa e al posto dell'acqua santa ho trovato disinfettante diciamo che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ovviamente stavo seguendo la questione già da molto tempo perché quando Benedetto XVI ha presentato la ormai celeberrima declaratio io non mi sono bevuto neanche per un secondo che l'avesse fatto perché era stanco o perché è merco come in seguito perché soffriva di insonnia. Abbiamo poi saputo in seguito tramite Wikileaks, ovviamente anche in questo caso i giornaloni non si sono molto dedicati all'argomento perché è piuttosto imbarazzante, dicevo abbiamo appreso da Wikileaks che era stato ordito un vero e proprio complotto da parte dei poteri forti, in particolare quelli degli Stati Uniti per costringere Benedetto XVI alle dimissioni. C'è uno scambio di email impressionante tra l'allora segretario di Stato Hillary Clinton, Obama, lo spindotto di Hillary Clinton, John Podesta e l'immarcescibile Soros, quello c'è sempre, in cui appunto visto che il Papa era un vero e proprio catecon era un uomo tradizionalista che faceva il Papa e parlava da Papa, bisognava dichiarargli guerra. Non deve stupire questo interesse delle potenze straniere nei confronti di un pontefice e delle elezioni di un pontefice. Basti pensare che nel corso della storia le ingerenze ci sono state come, c'è stato anche prima della Prima Guerra Mondiale Francesco Giuseppe, l'imperatore d'Austria, e allora si poteva porre il veto e il veto l'ha posto nei confronti di un candidato che poi è emerso essere un massone. Ora aggiungiamo a tutti questi particolari non indifferenti che appena Benedetto XVI ha presentato la declarazione, lo SWIFT è stato sbloccato perché qualcuno aveva deciso di bloccare lo SWIFT in Vaticano, cioè la Santa Sede non poteva neanche andare a fare la spesa per i propri dipendenti. Ecco, ricordiamo brevissimamente che cos'è lo SWIFT, è un sistema bancario che permette appunto le transazioni più comuni, delle carte di credito. Esattamente, ci sono alcuni paesi che non hanno diritto, ma diciamo che il blocco occidentale dipende dallo SWIFT, tanto è vero che si blocca lo SWIFT quando ci si trova di fronte a quei cosiddetti paesi canaglia, ormai abbiamo imparato a conoscerli. Ecco, per cui, insomma, se uno più uno fa due, gli Stati Uniti d'America, e non solo ovviamente, avevano deciso che c'era uno Stato canaglia che andava bloccato. E allora se ne parlò di questa cosa? Se ne parlò? No, sui giornali, però poi dopo non fu collegata con tutto il resto. Forse è così, uno blocca lo SWIFT a uno Stato indipendente sovrano, perché il Vaticano tale è, è così, e nessuno apre un dibattito, nessuno si interroga, nessuno si domanda come mai sia possibile. Ora, tutto questo ci collega alla presenza della massoneria, all'influenza della massoneria, sia quella ecclesiastica, sia quella internazionale. Allora, io so che già qualcuno starà sorridendo, perché quando si parla di massoneria uno evoca poteri occulti, ma guardate, è ormai storia, la massoneria nel corso della storia appunto ha avuto un'influenza enorme, ma addirittura nella Costituzione o nella dissoluzione di interi Stati, ma del resto pensiamo che l'Italia è nata grazie all'interesse e alle pressioni della massoneria internazionale, oltre ovviamente all'interessamento delle cancellerie britannica e francese. Non dimentichiamoci che la massoneria è quella che ha contribuito alla dissoluzione dell'impero asburgico. L'ultimo imperatore d'Ausia, Carlo I, che tra l'altro è beato, proclamato da Giovanni Paolo II, poteva mantenere, se avesse voluto, il regno non dell'impero asburgico, ma almeno quello d'Ungheria. La massoneria gliel'aveva apertamente, apertamente offerto. Lui avrebbe dovuto abbiurare la propria fede cattolica, perché sappiamo che uno dei punti salienti che contraddistingue la massoneria è l'odio nei confronti della Chiesa. Carlo I d'Asburgo rifiutò e sappiamo che poi è andato in esilio ed è morto in esilio. Quindi, ripeto, l'interesse dei poteri internazionali nei confronti anche del Vaticano non è una novità e si è fatto sentire nel corso dei secoli, ora più che mai, o meglio, fino a quando c'era Benedetto XVI che si opponeva al nuovo ordine mondiale e, diciamo, ha tutto ciò che ha a che fare con l'opposizione ai piaceri del mondo. Benedetto XVI, ma anche altri prelati prima di lui, sono sempre stati chiari. Il cattolico deve essere ovviamente parte del mondo, perché vive nel mondo, ma non essere nel mondo con il mondo. E ovviamente questo suona molto male agli occhi e alle orecchie di chi tira le file a livello internazionale. Quindi noi abbiamo assistito tutta una serie di manovre per costringere Benedetto XVI alle dimissioni. Poi, intendiamoci, c'è chi si è occupato molto meglio di me anche da un punto di vista di diritto canonico della faccenda e mi riferisco ovviamente al collega Andrea Cionci e al suo libro Codice Ratzinger. Io ho trattato la questione da un punto di vista cronachistico. Io faccio il giornalista, quindi il mio mestiere consiste nel scovare e raccontare fatti e io ho cercato di farlo nel meglio, al meglio delle mie possibilità. non so se ci sono riuscito, ma comunque ho trovato una serie di informazioni impressionanti. Non dimentichiamoci tra l'altro che quelli che sorridono e ci accusano di complottismo dovrebbero un tantino informarsi perché ad esempio il Cardinal Daniels, l'arcivesco di Bruxelles, evidentemente prossimo alla fine e timoroso di affrontare Nostro Signore, scrisse un libro in cui parlava apertamente di un gruppo ultramodernista e progressista che mirava diciamo la trasformazione radicale della Chiesa Cattolica in senso iper progressista e modernista, altro che con il Cilio Vaticano II. Questo gruppo si chiamava, perché si faceva chiamare così, la mafia di San Gallo, perché si trovava ogni anno nella città svizzera di San Gallo su un dito dell'Evo Führer. Ora, c'è un video, c'è un intervista al Cardinal Daniels alla televisione Fiamminga, quindi lui parla Fiammingo ma i sottotitoli sono in inglese, in cui l'intervistatore così molto diplomaticamente domanda al Cardinal Daniels di questo gruppo, tra l'altro che era capeggiato dall'arcivesco di Milano, non allora capiva Martini. Ora, usa tutti dei termini particolari, gruppo, associazione, al che il Cardinal Daniels interrompe il giornalista e gli dice, no, no, ma guardi, non abbia timore, ci chiamavamo proprio la mafia di San Gallo. Quindi il pubblico ride, ma ovviamente non c'è niente da ridere, perché la dichiarazione è semplicemente drammatica. Ora, la presenza della massoneria in Vaticano è storia della Notte dei Tempi, non dimentichiamoci che fu proprio Paolo VI a commissionare a Monsignor Gagnon in canadese un'indagine che durò due anni sulla presenza della massoneria in Vaticano, perché era talmente presente, talmente evidente che il Papa stesso ne era preoccupatissimo. Lo stesso Paolo VI che dagli ultraconservatori viene accusato di tutto e di più. Eppure fu lui a chiedere, diciamo, di convocare, di istituire una commissione che indagasse sulla presenza della massoneria in Vaticano. Quando venne presentate le conclusioni, in quel periodo, proprio sulla rivista OPI, Osservatorio Politico del famoso Amino Pecorelli, uscì un elenco di cardonali massoni con tanto di numero di affiliazione e di nickname. E ovviamente si trattò di una bomba che molti finsero di non sentire, ma che esplose in tutta la sua virulenza. Questo ci porta ai giorni nostri, ovvero sia alle dimissioni obbligate di Benedetto XVI che si è ritirato in sede impedita e ha continuato ad esercitare il MUN, spettino. Quindi non è stato affatto un'abbligazione, come dicono, perché l'abbligazione, io mi sono recentemente anche documentata sull'abbligazione di Edoardo VIII, re di Inghilterra, che abdicò nel 1936. E lì ci fu tutta una serie di documenti successivi, dichiarazioni, dove lui poi nell'atto ufficiale di abdicazione scriveva io rinuncio a tutti i miei oneri e onori legati al trono per me e per i miei discendenti. Quindi quello è inattaccabile. Lui non è rimasto a corte, non si vestiva ancora di nuovo. Le abdicazioni sono fatte così, sono inequivocabili. Ma poi pensiamo alla stessa declarazione. Allora, una persona della cultura immensa, dello spessore culturale stratosferico, che parlava latino esattamente come la lingua madre, ovvero sia il tedesco, che ha piazzato degli errori che non avrebbe commesso neanche uno studente del ginnasio e francamente lascia un po' perplesso. Poi comunque, al di là di quello, io poi francamente mi domando come mai anche i gruppi tradizionalisti che considerano Bergoglio, Papa, non tengono presente questo aspetto. Ma a me è stato insegnato che se l'elezione è il frutto di pressioni, basta solo quello per dichiararla non accettabile. Per cui c'è il cardinal Dannes, ci sono altri prelati che denunciano apertamente un complotto, perché ormai il complotto è un termine che ormai non gode più di una certa serietà, perché ormai si accusano di complottismo tutti per delegittimare. Ma in realtà fu un vero e proprio complotto. E quello che si è registrato con le elezioni di Bergoglio è stato niente di più che un colpo di Stato. Noi siamo stati abituati nel corso dei decenni a vedere i risultati delle rivoluzioni più o meno colorate, arancioni, fucse, promosse in particolare dagli Stati Uniti d'America. Sappiamo cosa sono in grado di fare gli Stati Uniti d'America, sappiamo cosa è in grado di fare la massoneria internazionale. Nel periodo delle, io ripeto, chiamo dimissioni per intenderci, delle dimissioni di Miletto XVI e delle elezioni di Bergoglio, c'è stata una mole impressionante di telefonate, ad esempio, tra la Santa Sede, l'ambasciata britannica e Londra. Questo è scritto da una giornalista, è stato scritto da una giornalista britannica che non è neanche cattolica. Questi sono fatti con cui noi abbiamo il dovere di confrontarci. Poi ognuno la veda come vuole, la interpreti come desidera, però i fatti sono fatti. E ripeto, se un gruppo di pressione esercita, appunto, pressione su un candidato a scapito di un altro, trama, si trova in segreto, insomma, rende de facto l'elezione invalida. E noi ci siamo ritrovati, infatti, Bergoglio, che sin dal primo giorno ha subito, subito scoperto le carte. Non è che sia se ha fatto molti problemi. Io mi ricordo quando è stato eletto e ha esordito con il suo buonasera, ormai celeberrimo. Io ingenuamente avevo pensato, appunto, così alla scarsa dimestichezza col linguaggio. Non dimentichiamoci che, ad esempio, altro particolare che secondo me è stato sottolineato poco, quando dalla loggia viene calato quello stendardo enorme, che anziché esserci lo stemma del precedente pontefice, come era ad uso, c'è semplicemente uno spazio bianco, ma enorme, enorme, che è stato cucito. Allora, io penso che un lavoro del genere non abbia richiesto pochi minuti, primo. E secondo, mi domando perché mai Orghe Mario Bergoglio abbia deciso di oscurare lo stemma dell'ultimo, è vero, Papa, cioè Benedetto XVI. Non dimentichiamoci che spesso la forma è anche sostanza, quindi ciò che vediamo o non può in realtà racchiudere dei messaggi ben precisi. Quindi noi ci siamo ritrovati, quest'uomo ci avevano detto che i gesuiti non potevano diventare papi e invece siamo trovati quest'uomo Papa che ha cominciato, ha cominciato a così interpretare il Vangelo in modo un po' singolare. Diciamo che per un certo periodo è rimasto abbastanza, fin tanto che c'era ancora Benedetto XVI, si è un pochino fino al 2016-2017 trattenuto, perché effettivamente c'era ancora il Tecon, quindi c'era ancora. Però sappiamo che ha fatto, quando Benedetto XVI scrisse quel libro col Cardinale Sara, successe un pandemonio e alla fine poi finì con la vigna di Benedetto sradicata, cioè una cosa veramente, anche questo gesto molto simbolico, perché Benedetto XVI si era sempre definito fin dal momento dell'elezione un umile servitore nella vigna del Signore. Quindi è stata anche una battaglia di altro che si abbracciavano e si volevano bene, come nel film i due papi, la serie Netflix. In realtà è stato, si capiva che c'era una certa tensione che però aveva ogni tanto sfociava in questi atti molto simbolici. Però ripeto, da quando siamo di fatto volendo sposare questa tesi dell'antipapato, dalla morte di Benedetto XVI, quindi dal 31 dicembre del 22 siamo in sede vacante, ecco Francesco Forge Mario Bergoglio si è sentito un po' libero di premere l'acceleratore. Io mi ricordo, scusa poi ti lascio la parola, mi ricordo che una delle cose che mi stupì maggiormente, dunque Bergoglio fu eletto a marzo, nel mese di settembre passando da un'edicola, vedi le figurine di Papa Francesco. L'album delle figurine, sì sì in Italia è stato fatto anche questo, è l'album delle figurine di Papa Francesco e io mi meravigliai molto perché sinceramente era uno sconosciuto. Avrei capito l'album delle figurine, anche se non sarebbe stato nelle sue corde, di Giovanni Paolo II perché la celebrazione di un pontificato lunghissimo è glorioso, ma insomma un personaggio sconosciuto gli fai subito l'album che non è che lo fai in cinque giorni e così, quindi questa cosa già mi... No no ma è significativa, anche perché assistiamo a una vera e propria Bergogliatria, nel senso che i giornaloni, insomma quelli che vengono diciamo, che si autocelebrano come testate prestigiose, serie, obiettive, no? In realtà ce lo descrivono, cioè ce lo descrivono come un uomo misericordioso, in realtà è esattamente il contrario, noi sappiamo perfettamente che Orghe Mario Bergoglio è un uomo spietato, ma veramente nel senso reale del termine. Tu parlavi prima di simboli, no? Quando è morto Benedetto XVI, a me questo particolare ha scioccato, la salma è stata prelevata da un furgone commerciale, c'è neanche un carro funebre o un mezzo... Adesso non lo sapevo. Un furgone, ci sono i video, guardando su YouTube si trovano delle vere e proprie chicche, c'è anche quella del furgone commerciale con cui è stata prelevata la salma, non c'era una scorta, non c'erano le guardie svizzere, tutto al buio, come se si fosse trattato di nascondere un pacco ingombrante. Sulla cerimonia meglio che non pronunci parola perché è stata qualcosa di semplicemente osceno, basti pensare che persino gli stessi collaboratori di Bergoglio l'hanno pregato di rimanere perché questo voleva addirittura andarsene prima della conclusione della cerimonia funebre. Sono stati tagliati interi passaggi lasciando sbigottiti tutti i presenti. Potremmo andare avanti a citare l'oltraggio che Jorge Mario Bergoglio ha tributato anche alla salma, basti pensare che ha vietato alle enunziature apostoliche di esporre la bandiera a lutto. Avevano predisposto in Vaticano pochissimi posteggi perché erano convinti da Santa Marta che non sarebbe venuto quasi nessuno. Quando si sono resi conto che c'era gente da mezzo mondo che voleva partecipare, sono stati colti in contropiedi, hanno dovuto allestire dei posteggi così all'ultimo momento. Quindi anche da un punto di vista simbolico noi ci troviamo di fronte a un uomo che ha mostrato tutto il suo disprezzo nei confronti del precedente pontefice che infatti non cita mai. Contrariamente a Benedetto XVI che citava sempre Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II che citava sempre i pontifici precedenti. Con Bergoglio questo non lo abbiamo. Ma per parlare di scarsa misericordia, per essere generosi, ovviamente con l'offimismo, noi dobbiamo tenere presente che i giornali hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione di questa vergogliatria. Ormai lo sappiamo, le testate politicamente corrette sono diventate dei cani da riporto del potere, non più da guardia. E i risultati si vedono, perché Bergoglio attua nei confronti di tutti coloro che ne ho pensato esattamente come lui e che non condividono la visione di una chiesa post-cattolica sempre più simile a una comune ONG di stampo globalista, la più spietata delle considerazioni. Non dimentichiamoci, ad esempio, la sorte a cui è andato incontro Don Alessandro Minutella, che è stato addirittura scomunicato due volte, è stato ridotto allo stato laicale. Non dimentichiamoci, tutti i sacerdoti del piccolo resto cattolico scomunicati dal mese ricordioso, non dimentichiamoci che ovunque il signor Bergoglio senta profumo di sacro, invia i suoi pretoriani ovunque siano nel mondo e fa chiudere conventi, mette sotto amministrazione controllata intere parrocchie. Non dimentichiamoci che, ad esempio, in Francia ci sono i frati della misericordia divina, ci sono diversi seminaristi in attesa da anni di essere consacrati sacerdoti. Bergoglio lo impedisce perché si tratta di una realtà conservatrice. Non dimentichiamoci che, ad esempio, Monsignor Strickland, che è un prelato molto conosciuto negli Stati Uniti, si era posto a Bergoglio già per i vaccini. Poi era uno che, insomma, continuava a parlare di sacro, addirittura pregava il rosario in ginocchio davanti alle cliniche abortiste. Bergoglio ha aspettato qualche mese, ha aspettato un annetto e poi ovviamente ha fatto scendere la mannaia e da un giorno all'altro l'ha mandato via, gli ha tolto il lavoro. Ed è una pratica che non è così rara. Non dimentichiamoci, ad esempio, di Burg, ma Burg ben gli sta perché, voglio dire, lo riconosce come Papa e Papa si obbedisce. Non dimentichiamoci che Burg si è trovato da un giorno all'altro, visto che è conservatore, senza più nulla da fare e Bergoglio, che così misericordioso gli ha persino tolto l'assistenza sanitaria. Siamo a questi livelli. Io rimango sempre basito quando leggo sulle testate politicamente corrette alcune considerazioni di Bergoglio, poi nella realtà noi ci troviamo di fronte a una figura che sta facendo il contrario di quello che ci viene dipinto e lo vediamo mese dopo mese, anno dopo un anno, nel corso del suo cosiddetto pontificato. Poi a me sembra significativo anche verificare chi Bergoglio incontra e chi Bergoglio si rifiuta di incontrare. Noi sappiamo che l'argentino non ha voluto incontrarsi con quattro cardinali che gli chiedevano delucidazioni su importanti questioni dottrinarie e pastorali. Famosi dubbi. Esattamente, esattamente. Allora, a me risulta che se un cardinale, uno, se un cardinale domanda un'udienza al Papa, questo viene ricevuto nell'arco delle 48 ore e prassi così. Ora, questi quattro cardinali non solo non sono stati ricevuti. Quando l'anno dopo sono tornati all'attacco e hanno scritto una seconda richiesta, tutta gentile, tutta in punta di piedi, in cui incensavano il Santo Padre. Il Santo Padre neanche si è degnato di rispondere. Cioè, qui siamo alla bici anche della buona educazione, non solo della scansa considerazione di confratelli. Tra l'altro, tra questi quattro cardinali c'era il cardinal Zen, cinese, che voleva non solo parlargli appunto dei dubbi espressi in Amoris Laetitia, ma anche della drammatica situazione in cui versano i cattolici, i veri cattolici cinesi nel suo paio. Niente, non ha ricevuto neanche lui. Il poveretto era basito, ha prolungato il soggiorno a Roma, è rimasto pazientemente in albergo in attesa che Bergoglio lo convocasse e questo non è avvenuto. E se da una parte Bergoglio si rifiuta di ricevere addirittura quattro cardinali che lo supplicano di essere ricevuti per avere delle delucidazioni riguardo importanti questioni dottrinarie, invece riceve personaggi singolari. Pensiamo ad esempio, potremmo stare qui, una giornata a elencare le chicche e le perle di personaggi che ha incontrato. Quello che mi ha lasciato veramente a bocca aperta è stato l'incontro con un artista che sotto l'onore delle cronache, con una celeberrima opera dal titolo Peace Christi. Si tratta di un crocifisso immerso nell'urina dell'autore. Bergoglio l'ha ricevuto tra baci e abbracci. Non dimentichiamoci poi che ad esempio ha ricevuto Whoopi Goldberg, la celeberrima attrice di Sister Act, simpaticissima, tutto quello che volete, anche ho visto i suoi film, francamente sono carini, però questa donna ha otto aborti alle spalle e non solo, ha applaudito quando alcuni sacerdoti cattolici e pastori protestanti sono stati arrestati dalla polizia per avere protestato davanti alle cliniche abortiste. Bergoglio riceve personaggi del genere. Oppure pensiamo a Musk, Elon Musk, che ha, mi sembra, undici figli, avuti da quattro donne diverse, la stragrande maggioranza dei quali concepiti in provetta, uno dei quali si chiama, ha una sigla, Ash, X, Z, Y, se non ricordo francamente il nome, ecco, il che mi sembra un palese messaggio transumanista. Lui riceve personaggi del genere, riceve e fa cose inaudite a cui abbiamo assistito nel corso degli anni. Una, ad esempio, è stata l'intronizzazione di Pachamama all'interno della Basilica e dei Giardini Vaticani. Se voi guardate il video, potete interpretare come desiderate, ma insomma le scene sono verificanti, perché c'è questa divinità, io ho fatto delle ricerche, perché alcuni sostenevano non essere vero, invece è vero, a questa divinità venivano anche fatti sacrifici umani. Ovviamente non è questo l'aspetto più significativo, è che in Vaticano Bergoglio e i suoi pretoriani hanno celebrato una divinità pagana. Se voi vedete le scene, vedete questi singolari personaggi con sonagli, bastoni, campanelli, sciamani, streghe e stregoni, che onorano questa Dea della Madre Terra e con tutti i cardinali intorno che cantano felici. Ecco, noi ci troviamo oggi nella Chiesa Cattolica, quello che viene definito un pontefice, rendersi protagonista di queste chicche. Possiamo ad esempio citare anche l'intronizzazione della statua di Martin Lutero all'interno del Vaticano. Allora, uno può anche essere luterano, per carità, però voglio dire, Lutero è stato, io penso, il più inflessibile nemico del cattolicesimo. Poteva avere ragione, poteva aver torto, ma è stato quello che ha dimezzato il numero di cattolici in Europa. Tempi, no? Ecco. E non contento di... quando gli luterani sono andati a vedere la statua, non credevano ai propri occhi, non contento Bergoglio, ha fatto pure stampare un francobollo che celebrava Martin Lutero. Siamo a questi livelli. E poi appunto ci troviamo di fronte a un uomo che parla di tutto fuorché di Dio, che va in giro per il mondo in perfette condizioni psicofisiche e poi dall'immacolata concezione fino a Pentecoste è sempre malato e non riesce a celebrare Messa. Anzi, è stato dimostrato che non celebra Messa dall'aprile del 2022. Sì, anche io l'ho, infatti, anche io mi sono interessato alla questione, lo si vede dai paramenti, no? Quando alpiviale presiede ma non celebra. Ecco, sono tutti aspetti sconvolgenti, ad esempio anche il simbolismo che lui esterna con la croce, no? Che si appena il collo. Ecco, anche questo lo ritrovate facilmente in internet. Ha ricevuto, ha ricevuto l'apprezzamento della massoneria italiana. L'ex gran maestro gli ha scritto una lettera, guardate, una sviolinata incredibile proprio perché lui si è messo al collo con la croce, con il buon pastorno. No, ma ci sono anche delle foto di tempo fa con i cardinali, con le mani così. Non è un gesto proprio. Ma guardate, tra gesti simbolici e frasi, signore, uno può dire quello che vuole, ma nel nascorso della storia non si è mai sentito un Papa dire che Gesù fa un po' lo scemo, Gesù si fa Satana, Gesù si fa serpente. Sono frasi sconvolgenti, sconvolgenti e c'è anche gente che lo giustifica. Ad esempio c'è una celeberrima telefonata con una fedele, anche questo potete andare, lo ribadisco per l'ennesima volta, potete trovarla su YouTube. c'è una telefonata con una fedele, la quale ha un filo autistico. Ora, al termine della conversazione, lui chiede alla donna di pregare per lui, lei gli risponde, gli risponde che ma no, santità, non ce n'è bisogno, un santo come voi. E vergogna che cosa risponde per ringraziare la povera fedele? Ci rivedremo all'inferno. Allora, io non so, io fossi un sacerdote, un cardinale, insomma, io balzerei sulla poltrona. Se voi andate a leggere le giustificazioni che ci sono, c'è da piangere. Ad esempio c'è qualche prelato che ha detto ma guardate che in realtà lui intendeva dire che pur di salvare le altre anime lui è disposto a condannare la propria e andare all'inferno lui, al posto degli altri. È peccato che lui dica ci rivedremo all'inferno. Quindi non salva neanche la povera fedele e suo figlio. Siamo di fronte a queste chicche. E poi, insomma, qualcuno non può fare paragoni con Benedetto XVI, ma signori, noi ci troviamo di fronte a un pontefice, mi riferisco a Ratzinger, che comunque parlava del Vangelo, non lo interpretava, era un catecon per opporsi alla diffusione delle forze del male. A parte il fatto che Ratzinger è stato chiaro sin dall'inizio, voi ricorderete probabilmente l'omelia che fece ai funerali di Papa Giovanni Paolo II. Tutti vaticanisti furono sorpresi perché lui era uno dei papabili e fece un discorso in cui parlava di sporcizie nella Chiesa che praticamente si pensava lo escludesse, perché io mi ricordo avevo letto degli articoli e tutti dicevano questo è il discorso di uno che non può diventare Papa, che non vuole fare il Papa perché si è autoescluso. Invece sappiamo che è caduto il suo contratto, perché lui intendeva esattamente combattere la sporcizia che altri invece vogliono cementificare e incrostare in tutto il Vaticano e questo sta accadendo oggettivamente da tempo in me, ora non è che Bergoglio sia arrivato di punto in bianco, ha trovato un substrato, ci ricolleghiamo alla mafia di Sangallo prima, i modernisti e i percorresisti hanno già compiuto un lavoro non indifferente. Eppure noi ci ritroviamo oggi in una stampa e gran parte della cosiddetta Chiesa che di fronte a quest'uomo non ha nulla, qualsiasi cosa dica va bene, non l'abbiamo visto anche partecipare al G7, quindi diventare praticamente de facto anche da un punto di vista di presenza fisica parte del nuovo ordine mondiale che vuole instaurare un certo tipo di mondo e guardate, io proprio pochi giorni fa leggevo ancora il termine nuovo ordine mondiale su una testata politicamente corretta che veniva ridicolizzato perché era un termine che si imputa ai complottisti. Guardate ci sono dei documenti in cui c'è scritto apertamente nuovo ordine mondiale, Bergoglio è parte di questo potere perché comunque ripeto parla di tutto fuorché di Gesù Cristo, quando lo fa insomma da una certa interpretazione, non dimentichiamoci che poi si circonde di personaggi di un certo tipo. Celebre è l'affermazione del capo supremo dei Gesuiti, Abascal, il quale ha dichiarato apertamente a un giornalista che gli faceva notare certe osservazioni che sono contenute nel Vangelo e che Bergoglio insomma metteva un po' in discussione, Abascal ha apertamente chiarato e ma a quei tempi non c'erano i registratori. Ora è un'affermazione di una gravità inondita, qui non c'è da ridere perché questi personaggi sono anche soliti fare battute e ottenere il plauso anche della gente che non si rende conto della gravità di ciò che viene detto. Per esempio Bergoglio un giorno ha ricevuto una committiva di seminaristi scozzesi i quali gli hanno portato in dono una bottiglia di un whisky pregiatissimo di quello che non si trova ai supermercati. Bergoglio ha ringraziato e ha apertamente dichiarato, testuale, questa sì che è la vera acqua santa. Ora la battuta farà anche ridere, ma farà ridere me e te quando andiamo al bar e alziamo il gomito, ma un cosiddetto santo padre che definisce la vera acqua santa, ma neanche è come l'acqua santa, no no, la vera acqua santa, insomma io penso che ci sia materiale per porsi delle domande e ripeto le affermazioni sono talmente numerose, potremmo star qui delle giornate perché ad esempio siamo arrivati al punto di sentirci dire da Bergoglio che di Dio si può ridere, quando ho ricevuto recentemente i comici, ha detto che di Dio si può ridere. Ora questo contrasta con due mila anni di storia, ormai la religione cattolica è diventata così una barzelletta, ma perché è portata avanti da una falsa chiesa dove succede tutto il contrario di quello che dovrebbe succedere e lo stiamo vedendo adesso nella seconda fase del sinodo. Già l'anno scorso ne abbiamo viste di cotte e di crude, quest'anno mi sembra che ci sia di che meditare, poi pensiamo ad esempio alle persone che Bergoglio promuove, noi ad esempio recentemente abbiamo visto la nomina di alcuni cardinali, ormai nomina solo certa gente, contrariamente a quanto facevano gli altri papi che nominavano anche dei cardinali, delle persone con cui non erano in perfetta sintonia, ma proprio perché la chiesa è universale va a rappresentare anche anime differenti, sensibilità diverse, per stimolare il dialogo, per stimolare il confronto, per stimolare il dibattito, questo non è mai stato escluso dalla chiesa. No, Bergoglio ovviamente nomina solo personaggi di un certo orientamento. Uno dei più conosciuti, questo padre domenicano Red Cliff, il quale oltre ad essere un fervido sostenitore dell'agenda LGBT+, qua non si sa bene più, ormai ci sono tutte le lettere dell'alfabeto che hanno inserito, ha dichiarato, se non sbaglio l'anno scorso, evidentemente per questo è stato premiato, diventerà cardinale a dicembre, ha dichiarato che io sono bianco, uomo e occidentale, non so che cosa ci sia di peggio. Ecco, questi sono i personaggi di cui si circonda Bergoglio e che stanno portando avanti il messaggio che non ha più nulla di trascendente, perché allora uno può credere o non credere, però mi sembra che nella storia dell'umanità, in ogni civiltà ci sia comunque un'esigenza verso dimensioni spirituali. Niente, invece noi ci troviamo oggi di fronte a una chiesa post-cattolica, ripeto, sempre più simile a una comune ONG di stampo globalista, che parla di tutto fuorché di trascendente e di spiritualità. Ma una cosa che mi ha colpito, questo l'ha fatto anche negli ultimi tempi, ogni tanto Francesco, butta lì qualcosa di, per parafrasare Moretti, di qualcosa di sinistra, ogni tanto dice qualcosa di cattolico, magari ti dice l'aborto, condanna l'aborto eccetera, a quel punto naturalmente il mondo progressista, il mondo gli si rivolta contro, il Papa è diventato tradizionalista, diventato, a me sembra tanto un teatrino questo. No, certo, ma indubbiamente lo è, indubbiamente lo è, anche perché ripeto, a parte che, voglio dire, anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora giusta, per cui anche le spie quando vengono introdotte in governi stranieri non è che possano proprio così scoprire le carte subito, spargere il proprio seme, bisogna andarci cauti, a parte che Bergoglio non mi sembra ci stia andando cauto, soprattutto a partire dal 2023. Ma ogni tanto appunto si deve fingere di fare il Papa perché altrimenti i dubbi che comunque continuano ad affollare le chiese, sempre più vuote, tra l'altro, sarebbero ancora maggiori. Tra l'altro l'aspetto dello svuotamento delle chiese è impressionante. Il problema è che Bergoglio, dove c'è aria di santità, dove c'è aria di spiritualità, dove c'è aria di preghiera, manda i suoi pretoriani. Noi sappiamo che in tutto il mondo, Europa e Stati Uniti in primis, là dove ci sono delle realtà conservatrici, per quanto valga questo termine, lui manda i pretoriani, fa chiudere, fa chiudere conventi e monasteri. Tra l'altro c'è un caso di cui negli Stati Uniti si è parlato molto, che è veramente fatto da una parte sorridere e dall'altra piangere, perché quando in un monastero le suore di clausura hanno dimostrato di essere di una certa pasta, cioè erano troppo conservatrici, pregavano troppo e Bergoglio gli ha mandato i propri pretoriani, ha fatto male i conti perché a volte non li vanno tutte dritte, no? Per cui, a me viene da sorridere perché uno si immagina le monache di clausura, tutte le mie pie, dolci, che parlano in modo sommesso, che pregano dalla mattina alla sera e questo facevano oggettivamente così, sì, però la madre superiore, attaccata in modo vergognoso, lo spiegherò perché, ha fatto una bella cosa, ha chiamato l'avvocato e l'avvocato cosa ha fatto? Scusate mi si è rito ma la trovo molto così, in questo marasma almeno qualche nota di colore. L'avvocato cosa ha fatto? Ha preso dei provvedimenti per cui ha vietato persino al vescovo di accedere al monastero, per cui, voglio dire, la faccenda gli si è ritorta contro. Tra l'altro, questo vescovo aveva addirittura accusato la madre superiore di intrattenere rapporti sessuali con il sacerdote che andava a confessare le suore e a celebrare messa. Anche lì hanno fatto conti senza l'oste perché poi questa madre superiore, che era seriamente malata, era talmente messa male che da una perizia medica è stato dimostrato che era assolutamente impossibile che avesse rapporti sessuali. Siamo a questi livelli, cioè dal Vaticano non si arriva a usare non solo la scura su chi non la pensa come Bergoglio, ha deciso si debba pensare, ma si arriva a colpire anche in modo veramente volgare o sceno, visto l'argomento, mi sembra più indicato dal termine, tutti quelli che osano così far sentire un po' di profumo sacro. Questo non è accettabile oggi, per cui mi sono permesso di raccogliere tutta una serie di informazioni, ma senza chissà attingere a quali fonti, guardando i giornaloni politicamente corretti, video, testimonianze, ormai ce ne sono a Iosa che mi hanno portato appunto a veramente capire che quest'uomo è lì per seguire una certa agenda. Infatti Bergoglio non è altro che un uomo dei poteri forti, un uomo del nuovo ordine mondiale che sta portando avanti in perfetta sintonia con i suoi colleghi, soprattutto occidentali, una certa agenda. I risultati si vedono, perché oggi noi assistiamo a dichiarazioni e comportamenti che non hanno nulla a che fare col Vangelo. Non dimentichiamoci che ci sono alti predati, se non sbaglio, se commetto errore chiedo scusa al diretto interessato, ma sono quasi sicuro che sia Hüllerich, che ha detto che ci sono dei passi del Vangelo che cozzano contro il comune sentire laico e laicista del mondo occidentale che andrebbero o tolti o reinterpretati dal Vangelo. Siamo questi livelli e nessuno è nessuno fiata. Del resto sono state fatte anche delle modifiche, basti pensare alla modifica al messale, la modifica addirittura al Padre nostro che è l'unica preghiera proprio dettata da nostro Signore Gesù Cristo. Quindi voglio dire, qui non è un problema di copyright, ma è un problema proprio della parola di Dio che viene modificata così, tra l'altro senza motivo. Non dimentichiamo la battaglia, la guerra vera e propria contro la messa in rito antico che non dava fastidio perché tutto sommato era una minoranza di fedeli che preferiva seguire questo tipo di celebrazione e lui l'ha vietata. De fatto l'ha resa quasi impossibile perché ma tra l'altro anche questo si inserisce nell'alveo dei provvedimenti anti Benedetto XVI perché Bergoglio non ha fatto altro che fare sfumare ciò che aveva deciso Papa Ratzinger. Tra l'altro pare assodato che Benedetto XVI di di fronte al provvedimento di Bergoglio ci sia rimasto veramente malissimo perché non avrebbe neanche forse mai immaginato da uomo pio e realmente buono qual era che uno che si spacciava per Papa sarebbe arrivato a comprare un simile scempio. Ma tra l'altro non solo appunto la modifica che comunque risale alla notte dei tempi del messale o del rito antico, ma negli ultimi anni, cioè da quando Bergoglio ha occupato il sole di Pietro, noi vediamo scene che lasciano veramente atterriti. Cioè ci sono fedeli che non vogliono ricevere la comunione in mano alle quali la comunione viene negata. Ci sono anche in questo i video. I sacerdoti Bergogliotti si rifiutano di dare l'eucarestia a dei cristiani che si sono regolarmente confessati e che vogliono ricevere il corpo di Cristo. Anche qui altro particolare, chi parla più di queste cose, corpo di Cristo, Vergine Maria, miracoli, santi, profezie, ma figurarsi, queste sono leggende metropolitane. Altra differenza enorme rispetto a Benedetto XVI, ci sono state proprio in relazione al doppio papato delle mistiche e delle profezie che ci parlavano apertamente di un doppio papato e della guerra che si sta consumando in Vaticano oggi. Sono parole chiarissime. Poi uno può crederci o non crederci, però sono lì. Sono frasi scritte anche più di un secolo fa, pensiamo a Melanie Calvano, ad esempio, che non lasciano ombra, ombra di dubbio. Ecco, oggi la cosiddetta chiesa cattolica è come se si vergognasse del proprio passato, dei propri santi e di parlare di miracoli e profezie. Poi ogni tanto, appunto, per tenere buoni, perché non si può proprio esagerare sempre, per cui ogni tanto è per tenere buono. Chiamiamola folla, ma ormai folla qui non ne vediamo più da un pezzo, no? Allora ogni tanto quest'uomo cerca di dare un colpo alla botte e uno al cerchio e dice sì, no, ma anche. Quindi cerca di accontentare tutti, coloro che fingono di crederci abbassano la testa e noi l'abbiamo visto anche recentemente. Ci sono frasi di Bergoglio che contraddicono quello che ha detto il giorno prima. Ad esempio anni fa, intervistato da Eugenio Scalfari, fece scalpore perché negò apertamente la presenza dell'inferno come luogo fisico. Poi, però, dopo un certo tempo, disse che le anime dannate non vanno all'inferno, ma si dissolvono. Dove vada poi a beccare queste chicche di saggezza? Lo sa solo lui, perché d'accordo che sarebbe teoreticamente il vicario di Cristo, però un minimo di base su cui fare certe affermazioni dovrebbe essere, per esempio, non so, il Vangelo? La Bibbia? No, invece questo parte, arafica, e poi di fronte agli imbarazzi dei suoi collaboratori, perché ovviamente tutti mandano giù, ma proprio stupidi non sono, no? C'è più totale disorientamento, allora ci si arrampica sui vetri, quindi o si tolgono certe dichiarazioni, o si modificano, a volte facendo anche dei guai peggiori, per esempio a me viene in mente su Vatican News, quando Bergoglio dichiarò che Gesù fa un po' lo scemo, allora i suoi ottimi collaboratori pensarono di raddrizzare un tantino il timone scrivendo che Gesù fa un po' il finto tonto, come se questo cambiasse, cambiasse, siamo a questi livelli, e capita anche di peggio, perché poi ad esempio quando ci sono dei sondaggi promossi dalla Santa Sede che cozzano contro la strada tracciata da Santa Marta, allora cosa si fa? e si cancella, ad esempio recentemente un sondaggio apparso su Vatican News che indicava che l'85% degli interpellati non ne voleva sapere di sinodalità, è stato cancellato, cioè così, siamo, altro che censura, altro che inquisizione, qui si cancellano nel 2024 i sondaggi non graditi, invece si promuovono quelli che vanno in una certa direzione, hanno addirittura introdotto il peccato contro la sinodalità, ma il più bello è il peccato contro chi usa il Vangelo per scagliarsi contro, non ricordo la definizione, già la definizione richiede un volume di 300 pagine, evidentemente hanno il cervello così disturbato che persino nella formulazione semantica, devono trovare delle formulazioni che occupano alcune righe, signori questo è quanto, ci sono, ripeto per l'ennesima volta, non perché abbia l'Alzheimer, ma ripeto per l'ennesima volta, visionate i video di YouTube e scoprirete un mondo che non avreste mai voluto scoprire, ad esempio l'anno scorso, adesso c'è il sinodo in corso, queste tavole così tra amici, non siamo abituati alle tavolate, abbiamo visto anche in chiesa dove si riceve il cappuccino e la brioche, l'anno scorso c'erano le scene di una messa durante le giornate mondiali della gioventù in cui c'erano le ostie consacrate che i fedeli si passavano di mano in mano come se fosse una palla, come se fossimo allo stadio e arrivava il pallone, io lo passo al mio amico, lui la mia amica, la mia amica l'altro mio amico, lui il suo cugino, anche questo andate a vederle, questo è quello che è rimasto oggi della chiesa cattolica, poi ripeto, uno può credere, non può credere, però anche le persone non credenti, io penso che comunque di fronte a determinati personaggi devono trarre qualche conclusione, è come se noi avessimo sentito la Thatcher parlare di abolizione della proprietà privata e di esaltare Carlo Marx, cioè qualcuno si sarebbe fatto qualche domanda, però è possibile che nessuno si interroghi e non mi si venga a dire che Bergoglio fa l'amicone per recuperare la secolarizzazione che ormai è imperante nel mondo occidentale da molti anni, perché basta osservare gli interventi di Papa Benedetto XVI e Piazza San Pietro. Vedere quanta gente c'era con Ratzinger e verificare oggi lo stato delle chiese, dei seminari e anche di quando ci sono occasioni speciali, insomma io penso che si debba rimanere basiti per vedere ormai quello che Fusaro dice l'evaporazione del cristianesimo, perché ovviamente non ci sono più punti di riferimento. Oggi noi ci troviamo invece di fronte a un uomo Bergoglio che sta facendo di tutto, ma scientemente per demolire duemila anni di cattolicesimo e di cristianità. Poi questo non significa negare gli errori che sono stati fatti in passato, tutti ci citano, Papa Borgia, va bene, lo sappiamo, ho capito, avete ragione, però voglio dire, ma neanche Papa Borgia è arrivato, era un essere immondo, su questo non ci sono dubbi. Chiedo scusa per il termine, ma insomma non è che avesse una vita irreprensibile, però neanche lui è arrivato a definire Gesù Cristo con i termini che ha adoperato Bergoglio. Un uomo che tra l'altro non si fa problemi anche a esteriorizzare una certa propensione alla violenza e non si tratta solo di violenza verbale. Voi ricorderete che durante un'intervista aveva dichiarato, se non sbaglio, su un aereo, perché è in aereo che dà il meglio di sé di solito, in aereo un giornalista arrivò a dichiarare che se uno parla male della mia mamma io gli do un pugno, ma voi ve lo vedete Papa Benedetto XVI dire una frase del genere, ma guardate che tra l'altro non si tratta solo di un'esternazione verbale, di uno che magari aveva bevuto un cicchetto di troppo. Voi senz'altro ricorderete la scena che lasciò terrificanti persino i suoi più fedelissimi fan di quando diede una sberla a una fedele cinese che effettivamente l'aveva strattonato un po' violentemente, però insomma un pontefice che arriva al punto di dare un ceffone a una fedele, tra l'altro la cosa che mi ha più colpito non è stato il ceffone, anche questo andate a rivedere i video su YouTube, guardate l'espressione di Bergoglio, ma è un'espressione di una persona che impreda a un rancore più vieco e forse questo uomo effettivamente ha qualche problemino serio, ma serio anche a livello psicologico. Guardate io non mi permetto di ovviamente criticare le persone che hanno problemi, che ci mancherebbe dallo psicologo, però noi abbiamo sentito lo stesso Bergoglio dire che quando era arcivesco di Buenos Aires, cosa ha fatto invece di rivolgersi al proprio padre spirituale o pregare, perché ragazzi era l'arcivesco di Buenos Aires, no andava da una psichiatra ebrea, tra l'altro, adesso ovviamente non è un'accusa nei confronti di nessuno, però ricordiamoci che persino un Papa non conservatore come Papa Giovanni XXIII aveva proibito persino ai seminaristi di andare dello psicologo, perché possiamo andarci io e tu, possiamo andarci la gente comune, ma un sacerdote dovrebbe trovare nella spiritualità in Dio e nel proprio padre spirituale, perché serve a quello, mi sembra, il sostentamento per creare, per essere aiutato di fronte a certi dubbi che ci mancherebbe altro, uno non può sapere, ma un arcivesco di Buenos Aires che appunto, anziché rivolgersi al nostro Signore Gesù Cristo, va da una psicologa che professa un'altra religione, dovrebbe far riflettere così come dovrebbe far riflettere anche l'atteggiamento di Bergoglio quando era arcivesco di Buenos Aires, a parte il fatto che vorremmo sapere come mai dopo più di undici anni di pontificato Jorge Mario Bergoglio non vada a rendere omaggio alla propria terra nativa, insomma, butta male Bergoglio infatti è quell'uomo che ha deciso di murare il miracolo eucaristico, c'è un famoso miracolo che per lato si è ripetuto, quando questo miracolo è stato riconosciuto per ossia un'ostia consacrata che si è trasformata in pezzi di carne sanguinante, ecco, anziché organizzare processioni, veglie e adorazioni eucaristiche, cosa ha fatto Bergoglio? L'ha fatto murare, oggi c'è una targa, una targa che copre questo miracolo eucaristico e così la celebra, si fa per dire, in questo modo. Ripeto, sono tutti messaggi, gesti, atteggiamenti che ci parlano di una persona che forse non ricopre il ruolo che dovrebbe ricoprire e forse ha sbagliato l'estiere. Ma io mi sto convincendo di una cosa, cioè che lui in qualche modo, ne parlavo con Don Fernando Cornè, lui mi spiegava, gli facevo la domanda sul fatto appunto che Papa Francesco non celebra la messa, ma presenzia solamente. E lui mi diceva, Don Fernando Cornè, che per un sacerdote il centro assoluto della vita, dell'essenza dell'essere sacerdote è l'eucaristia. Io posso capirlo, posso immedesimarmi, come fa un prete a non celebrare l'eucaristia? È un controsenso, sarebbe come se facendo un paragone assurdo un pilota automobilistico non smettesse di guidare. È una cosa talmente fondamentale e io penso che in qualche modo questa cosa gli stia causando anche magari inconsciamente una grande sofferenza, perché lui è stato scelto a un ruolo ed è un ruolo che sicuramente non è indolore per lui, perché lui forse era partito diversamente nella sua vocazione, nella sua vita e si è trovato a interpretare questo ruolo, è anche sofferente fisicamente, si vede che non è. Quindi a sua modo è un anticroce che lui sta portando allo stesso modo che non è leggera. Anche il fatto che lui non si inginocchia davanti, l'unica volta che riuscì a farlo inginocchiare fu Papa Benedetto quando andò, che c'è ancora quella famosa foto dove sono tutte e due vestiti di bianco inginocchiati all'inginocchiatoio e lì pare che sia una delle poche volte in cui lui si sia inginocchiato e allora non c'era ancora il problema del ginocchio che adesso… Quando vuole si inginocchiato come, non l'ho notato io, l'hanno notato molti osservatori, ma quando ci sono ad esempio alcune situazioni, alcuni personaggi, lui si inginocchiato come. C'è una fotografia in cui lui bacia i piedi a un capo di stato africano, non si è mai visto una cosa nel genere, non perché ovviamente sia africano, perché qui bisogna specificare sempre tutto… Sì, sì, beh certo, certo… Sì, sì, beh certo, certo… No, no, ma se fosse un inginocchiere sarebbe successo al fine mondiale, ecco, quando vuole si inginocchia, ad esempio anche di fronte agli immigrati, va benissimo, io non sto pronunciandomi contro a favore degli immigrati, però è per ribadire che quando vuole, quando vuole, lo dicevo prima, lui si ammala casualmente dalla Immacolata Concezione a Pentecoste, poi sta sempre benissimo, non dimentichiamoci che anche fonti attendibili, siti cattolici attendibili parlavano già di Bergoglio praticamente prossimo alla fine più di un anno fa, sembrava che avesse un male incurabile, avevano detto che così da fonti certissime, cardinali che gli erano vicini così, avevano niente di tutto questo, ma questo uomo secondo me si autoalimenta, perché comunque è una missione da compiere e vuole portarla a termine, tra l'altro se non si inginocchia, poi però è ad esempio rifiuta di tributare l'onore che un papa dovrebbe tributare all'ostia consacrata, ma non si fa remore nel tributare onori a personaggi un tantino discutibili, probabilmente ricorderete tutti la sua visita alla salma del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Allora lui non si fece neanche il segno della croce, ovviamente non diede alcuna benedizione, fece alcuni movimenti che più di un osservatore, anche indipendente, hanno interpretato come messaggi massonici, tra l'altro io ricordo che comunque anche se Giorgio Napolitano era attio, però era stato battezzato, per cui un segno di croce io penso che non avrebbe scandalizzato nessuno, poi ragazzi stiamo parlando di quello che dovrebbe essere un papa, va bene che alcuni osservatori sono ipercritici, però penso che nessuno avrebbe avuto da ridire se quest'uomo si fosse fatto segno della croce davanti a una salma, niente di tutto questo. E ovviamente di fronte a certi personaggi lui per non offendere, perché è la giustificazione, si comporta in un certo modo, poi ovviamente non si fa problemi a offendere altri, perché sappiamo le umiliazioni di cui è capace, di scatti d'ira, sappiamo, ormai ne parlano tutti, ma anche persone estremamente attendibili, non si tratta di gossip, si tratta di certezze e purtroppo ci parlano, ripeto per l'ennesima volta, di un uomo che forse ha sbagliato mestiere. Non si fa problemi, però del resto basta vedere di chi si è circondato. Pensiamo a Fernandez, durante una conferenza stampa non si è fatto a usare il termine cazzate. Un alto prelato e prefetto della dottrina per la fede, che durante una conferenza stampa ufficiale davanti a decine di giornalisti provenienti da tutto il mondo usa il termine cazzate. Perché del resto stiamo parlando di un personaggio che ha scritto dei libri un tantino singolari, no? Sì, diciamo singolari. In base nel mio titolo, poi in spagnolo non so niente, ma ecco, cioè libri in cui lui esalta la sessualità, che per carità, voglio dire, ci sta in una copia, però lui la esalta come un raggiungimento, è all'apice del misticismo, no? Per cui voglio dire… Maggia, stiamo alla magia sessuale qui… Ma non per niente viene chiamato porno teologo, voglio dire, ragazzi, noi ridiamo, però stiamo parlando di argomenti estremamente seri e se noi ci ritroviamo un alto prelato di questo tipo, scelto da un personaggio di cui abbiamo parlato fino adesso, con così tanta disinvoltura, i tempi, i tempi sono bui, tra l'altro con quello che sta capitando in Terra Santa, può anche darsi che comunque, comunque ci sia un così, un avvicinamento alla realizzazione delle profezie di cui abbiamo letto in questi anni, ecco. Senti, come ultima domanda ti voglio chiedere questo, perché noi abbiamo delineato un ritratto di quello che a tutti gli effetti si comporta e fa pensare di essere un antipapa, cioè qualcuno che è l'antitesi in qualche modo di quel pontefice che era il suo predecessore, lui si definisce il successore nella sua biografia e il suo predecessore era proprio una figura antitetica, possiamo dirlo chiaramente. Quindi il passaggio da Benedetto XVI a Francesco è stato un passaggio traumatico, c'è chi dice che Francesco fosse pronto, tra virgolette, già alla morte di Giovanni Paolo II, ma che in quel caso lo stacco sarebbe stato ancora più difficile da giustificare, sarebbe stato ancora più traumatico passare da Papa Wojtyla a Bergoglio, per cui ci fu questo intermezzo, questo papato che secondo me era stato sottovalutato, Ratzinger è sempre stato sottovalutato, sottostimato ed è un papa che è destinato secondo me a brillare di luce, della luce che gli compete solo con una sorta di riabilitazione, un ritorno del papa re che dovrebbe essere assolutamente doveroso. Ma arrivo alla domanda, soprattutto in questi ultimi anni, il dire per esempio che l'inferno non esiste è un'eresia. Certo. Ecco, sappiamo che il papa eretico non può esistere, che ci sono stati dei papi che hanno pronunciato delle frasi considerate eretiche, sono stati ripresi, hanno rinnegato, si sono pentiti di quello che hanno detto e la cosa è rientrata lì. Una cosa di questo genere non è mai avvenuta per Francesco, quindi lui è pervicacemente eretico, continua a pronunciare cose sempre più, anche insomma quelle affermazioni su Gesù Cristo, insomma sono eresie, non c'era il magnetofono allora, insomma sono eresie. Ti domando, ma i tradizionalisti cattolici come fanno? Cioè qualsiasi persona che non è credente e gli spieghi in quattro parole questa vicenda delle dimissioni tra virgolette di Benedetto XVI di Papa Francesco, qualsiasi persona non credente o con poca fede ti dice ah ma sì ma Benedetto l'hanno cacciato e questo è un usurpatore, cioè ci arriva la persona più semplice del mondo. Come mai i grandi intellettuali cattolici, i grandi esponenti del tradizionalismo appena affronti questa questione vanno letteralmente in bestia e non rifiutano completamente l'idea che possa esserci un antipapa. Ma io me lo domando tutti i giorni. Ma veramente è una cosa che resenta la magia. Si offendono anche perché tra l'altro io ho notato, perché ovviamente seguo molti siti, molti interventi, ma di persone anche estremamente preparate, ho notato anche un certo astio nei confronti di tutti quelli che sono convinti della nullità delle lezioni di Bergoglio. Tra l'altro guarda mi dai l'occasione di ricordare che effettivamente quando morì Giovanni Paolo II, la mafia di San Gallo non aveva puntato su Bergoglio, ma su Martini, su Cardinal Martini che ovviamente era un uomo secondo me da un punto di vista era terribile, però era estremamente intelligente, era un biblista di fama internazionale, una persona di spessore culturale notevole. Poi a Martini venne il Parkinson e per cui non se ne fece niente. Anzi era stato Martini in primo luogo a opporsi all'elezione di Bergoglio e addirittura aveva deciso di convogliare, per quanto paradossale possa sembrare, i voti della sua cricca, su Ratzinger piuttosto che vedere Bergoglio. Poi le cose sono andate differentemente come abbiamo ben saputo e come abbiamo capito di saputo. Su come reagiscono i tradizionalisti io francamente mi stupisco tutti i giorni sino a un certo punto, perché guardate, ormai ci troviamo di fronte al mondo che va al contrario. Voi immagino, ricordiate bene l'oltraggio all'ultima cena che c'è stata nel corso degli Olimpiadi, no? Ok. Oggettivamente, anche io ho parlato anche con dei ragazzi atei, sono rimasti veramente disgustati, basiti, perché a tutto c'è un limite, no? Anche islamici sono… Infatti volevo proprio arrivare a questo. Signori, Teheran, stiamo parlando della Repubblica Islamica dell'Iran, ha convocato l'ambasciatore. Io ho visto delle fotografie reperite su un sito di controinformazione, o meglio di informazione, in cui si vedono i manifesti con la vera ultima cena e con un messaggio di solidarietà nel confronto dei cristiani. Noi sappiamo che l'Università di Al-Azhar, al Cairo, che mi dicono essere una delle più prestigiose del mondo musulmano sunnita, quindi quello più rigido. Rigido poi è una parola che non mi piace, ma comunque giusto per intendersi. Ecco, ha emesso un durissimo comunicato per condannare gli organizzatori della cerimonia parlando apertamente di blasfemia. Il Vaticano ha taciuto per interi giorni e quando, mi sembra, dopo una settimana è stato costretto a uscire allo scoperto, perché ovviamente se ne parlava in ogni dove, ha emesso un comunicato, ma che definire blando è un eufemismo. Poi, certo, c'è stata la presa di posizione subito di qualche cardinale, anche a Parigi, ci mancherebbe altro. Però, al di là di quello che si vede in superficie, noi dovremmo scavare e ci renderemmo conto che comunque spesso quelli che vengono dipinti come nemici in realtà sono nostri amici e collaboratori. Io ho sempre detto, guardate, qui in Svizzera sapete che noi votiamo su tutto, no? Ogni quattro mesi, tre mesi si va a votare sulle iniziative più disparate, dalle tasse al taglio delle corna delle mucche, per intenderci. Ecco, siamo andati anche a votare sul divieto sul divieto di coprirsi il velo, che ovviamente è la pratica che usano gli islamici. Io ho votato contro, ma per un semplice motivo, perché mi sono detto, cominciano con gli islamici e poi passano e arrivano a noi. Ed è quello che sta succedendo in moltissimi paesi d'Europa. Guardate che in Norvegia una giornalista cristiana che ostentava il crocifisso e che si è rifiutata di toglierselo quando conduceva il telegiornale è stata licenziata. Noi oggi in Francia sappiamo che esternare simboli religiosi può provocare l'arresto immediato. C'è un pullman che è andato in giro dopo l'oltraggio della manifestazione alle Olimpiadi, con un banalissimo manifesto in cui chiedeva il rispetto della cattolicità, i suoi componenti sono stati arrestati, hanno trascorso una notte in prigione senza cibo, senza acqua, senza poter vedere l'avvocato. Quindi noi siamo a questi livelli. Ripeto, gli amici a volte si nascondono sotto la superficie mentre noi ci vengono presentati come tali, quelli che in realtà sono nemici giurati. Sui tradizionalisti come ce ne hai tu, io francamente non so proprio come esprimermi perché quando vedo Burke, che è stato trattato come è stato trattato, che si alza sorridente e abbraccia Bergoglio, ragazzi bisogna averne di quello sullo stomaco. Purtroppo io penso che in questo frangente si debba fare un chiaro riferimento al materialismo più che alla spiritualità, perché non dimentichiamoci che i cardinali, quelli che ai tempi mi ricordo il senatore Umberto Bossi chiamava cardinaloni, non vivono in monolocali a Quartogiano, hanno un certo stile di vita. Forse, io ho l'impressione, chiedo scusa se sto commettendo errore, ma io ho l'impressione che per tutelare i propri privilegi, la propria posizione, il proprio modo svivendi, facciano finta che Bergoglio sia un legittimo pontifice, che in realtà la pensino esattamente come te e me e tante altre persone. Purtroppo si ostinano a parlare invece in modo differente per tutelare i propri privilegi che hanno acquisito nel corso della vita. Ecco, quindi abbiamo cotto sulla graticola abbondantemente questo antipapato che va avanti ormai da undici anni, infatti il sottotitolo del tuo libro è il primo decennio di un apostata sul soglio di Pietro, ricordo il titolo del tuo libro L'Antipapa. In questo libro troverete anche tutti gli esempi che Corrado Galimberti ha raccolto appunto nel corso di questo decennio, tutti gli esempi che portano, che mettono in evidenza le cose dette da Bergoglio, le cose fatte e non fatte, il rapporto con il suo predecessore, tutti gli atti più o meno ostili che sono stati compiuti contro di lui e tutto quanto insomma ci porta a chiederci come mai venga tollerato questo comportamento a volte palesemente eretico senza che qualcuno non si faccia qualche domanda. Ricordo come ultimo aneddoto il fatto che nelle indicazioni per le sue esequie Benedetto XVI impose che non partecipasse Joe Biden che nel frattempo era diventato credo era già presidente degli Stati Uniti e che invece all'epoca di questo colpo di Stato era vice presidente di Obama e pare che credo nel 2012 o 2011 andò appunto a parlare con Benedetto XVI e uscì si riportano appunto le cronache che Biden uscì non molto soddisfatto dal colloquio con Benedetto, chissà cosa gli aveva chiesto, probabilmente si dice che avesse chiesto quelle aperture nei confronti dell'aborto, nei confronti del sacerdozio femminile che anche questo è un problema che sta emergendo in questo nuovo sinodo e che Benedetto si fosse giustamente dal suo punto di vista opposto, per cui da lì ecco ma questo fatto che un papa, rimasto papa fino all'ultimo metta per iscritto non voglio il presidente degli Stati Uniti al mio funerale e gli americani hanno abbuzzato, hanno detto ok va bene non è un problema. Ti ringrazio moltissimo per averlo precisato perché in effetti io ho dimenticato ma è un particolare fondamentale che ci riporta all'inizio del nostro discorso, quindi al complotto è stato assorbito dall'amministrazione americana per deporre Benedetto XVI e questo rientra in una logica che nessuno può, io credo, in buona fede criticare. Ti ringrazio anche per averlo ricordato, tra l'altro appunto un uomo così mite, così generoso come Benedetto XVI mettere per iscritto che non voleva, non è che tutti quelli che hanno partecipato all'esequi di Benedetto XVI fossero cattolici praticanti perché c'era gente, ecco per aver messo nero su bianco una richiesta simile io penso che deponga a favore della nostra chiesa insomma. Certo, bene io ringrazio Corrado Galimberti, mi ha fatto molto piacere ospitarti, sentirti raccontare il tuo libro che invito ancora a leggere e spero di rivederti e di risentirti presto, salutiamo tutti gli amici ovviamente. Ecco, arrivederci a Corrado Galimberti e grazie per questa testimonianza. Grazie ancora, buona serata. Grazie, grazie, ciao ciao.